Musica Dopo i telegiornali nazionali anche la TGR della Lombardia entra nell'era digitale quella che avete appena visto è stata la prima edizione del telegiornale ad andare in onda interamente col nuovo sistema Ci ha raggiunti in studio il direttore della TGR Vincenzo Morgante, buongiorno direttore Dunque finalmente anche l'informazione regionale della RAI si adegua al progresso tecnologico Sì per noi oggi questa è una giornata davvero molto bella, particolare Recuperiamo un ritardo tecnologico non più sostenibile grazie ad una proficua e intensa collaborazione tra tutte le strutture aziendali che sono state coinvolte in questo processo e oggi consentimi di ringraziare i colleghi giornalisti, i tecnici, i montatori, gli impiegati di segreteria c'è stata una sinergia che ci consente di arrivare a questo traguardo che per noi era un traguardo molto molto attesso E tutto questo vuol dire anche che la RAI punterà sempre di più nel futuro sull'informazione regionale, sull'informazione dal territorio? L'informazione locale del servizio pubblico è la vera dorsale dell'azienda RAI Noi ci crediamo molto, l'azienda lo sta confermando, confermando gli investimenti previsti Nei prossimi mesi anche i telespettatori della Lombardia vedranno degli studi rinnovati, moderni e certamente proseguiremo anche su iniziative editoriali che ci consentano di essere sempre più vicini con le notizie ai cittadini Quindi un'evoluzione tecnologica importante per chi lavora in RAI ma non solo Assolutamente, contenitori nuovi ma anche grande attenzione al contenuto con in primo luogo sempre la qualità, la qualità dell'informazione della grande RAI, del servizio pubblico radio televisivo Io ringrazio il direttore Vincenzo Morganti, ringrazio naturalmente tutti voi per averci seguito Ancora una volta, buon pomeriggio